Le aziende dell'area del cratere hanno solo due settimane per regolare la loro posizione in relazione ai contributi previdenziali non versati nel 2009 a causa del terremoto. Mercoledì 16 giugno, giorno di mobilitazione dei comuni dell'area del cratere per promuovere una piattaforma alternativa alle disposizioni dettate dalla manovra correttiva sull'agevolazione fiscale per le zone colpite dal sisma, scadrà la prima delle 60 rate con cui dovranno essere restituiti contributi e tributi IMSS e INAIL non versati nel periodo aprile-novembre 2009. Un provvedimento che riguarda artigiani, commercianti, imprese della ricostruzione, lavoratori autonomi e agricoli, nonché liberi professionisti e committenti, secondo quanto riportato da una comunicazione IMSS del 29 gennaio scorso. Le aziende sono in forte difficoltà, spiega la consulente del lavoro Miria D'Amico, per regolare la posizione dei loro dipendenti. In caso contrario si rischia di finire inadempienti. Una situazione che può avere ripercussioni soprattutto sul settore edile ed è l'indotto poiché imprese che sono impegnate nella ricostruzione leggera e che ancora non vengono pagate, spiega la consulente, e tutte le altre che ancora attendono l'incasso dell'indennizio per i danni subiti dal sisma, sono tenute comunque a versare subito i loro contributi e delle persone che hanno dovuto assumere regolarmente per prendere o mantenere gli appalti. C'è anche un problema tecnico. La circolare dell'INPS fa riferimento a una futura comunicazione sulle modalità di versamento, comunicazione che però non è mai arrivata. Quando il 16 giugno la città scenderà in piazza a manifestare, prosegue D'Amico facendo riferimento alla mobilitazione generale del capoluogo, potrebbe già essere troppo tardi.